Saluto e ringrazio il Direttore Generale del Centro Internazionale per lo studio della preservazione e del restauro della proprietà culturale, Weber Doro, il Presidente del Consiglio ICROM, Olivier Martin, e tutti i membri e gli ospiti in collegamento per questo importante evento. Sono molto lieto di partecipare oggi alla celebrazione del sessantesimo anniversario dell'adesione ufficiale dell'Italia all'ICROM. È un'occasione preziosa per riflettere sulle ragioni di successo del centro istituito dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1956 e per esaminare le prospettive del prossimo futuro. All'indomani del secondo conflitto mondiale il centro è infatti nato con un mandato preciso, superare la distribuzione causata dalla guerra e dalle risposte concrete all'urgente bisogno di ricostruire il patrimonio culturale, esigenze cui il nostro paese voleva fortemente dare il proprio contributo. La determinazione dell'Italia del secondo dopoguerra di consolidare la propria presenza in ambito UNESCO si manifestò proprio nella disponibilità a ospitare un centro con cui avrebbe potuto diventare fortemente competitiva. Nacque così l'originario ROM Center, il centro internazionale specialistico per gli studi, la conservazione e il restauro dei beni culturali. Nel tempo esso si è trasformato nell'organizzazione intergovernativa di 137 stati membri con lo stesso obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere, come recita il suo stesso mandato. Come Italia siamo onorati ed orgogliosi di ospitare a Roma sin dalle sue origini la sede del centro internazionale. L'ICROM ha conservato nel suo acronimo le lettere ICR dell'Istituto Centrale del Restauro attivo dal 1939. Il centro è stato infatti anche l'espressione della volontà italiana di portare a livello mondiale la propria eccellenza nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali. Ritengo che questo sforzo italiano sia stato riconosciuto negli anni fino ai più recenti sviluppi che ricordo in breve. Nel 2019 al centro è stato esteso quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite riconoscendone pienamente lo status internazionale. Sono in corso i lavori di ristrutturazione della nuova sede ICROM presso l'ex convento di San Francesco a Ripa a carico del nostro paese che sono previsti concludersi per la prossima Assemblea Generale nell'autunno 2021. Tra i cambiamenti più significativi di questi 60 anni vi è stata la trasformazione della parte nel tutto. Il settore culturale ancora di nicchia tra gli anni 50 e 60 si avvia via integrato con le attività economiche e sociali. Negli ultimi decenni ben prima dell'agenda 2030 degli stessi obiettivi del millennio nessun serio progetto di sviluppo ha più potuto prescindere dal binomio cultura sviluppo. L'ICROM ha sviluppato ben presto questo tipo di competenza come dimostra la collaborazione tra il centro e la cooperazione italiana allo sviluppo che ha realizzato interventi importanti in Africa e in Medio Oriente. La cooperazione tra l'ICROM e il nostro paese andrà a rafforzarsi anche grazie alla rete delle 221 missioni archeologiche finanziate dall'Italia in tutto il mondo nonché attraverso il partenariato strategico tra il centro e la fondazione scuola di beni e delle attività culturali del MIBACT istituita nel 2019. Per le cancellerie di tutto il mondo la diplomazia culturale non è un optional. A maggior ragione non lo è e non lo è mai stata per l'Italia che farà della cultura una delle direttrici della sua presidenza del G20 nel 2021. L'anno prossimo l'Italia sarà anche candidata ad un seggio nel comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo insieme alla Cina il paese col maggior numero di siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale ben 55. Forti di questo primato intendiamo candidarci per ridare slancio alla convenzione UNESCO del 1972 e celebrare il cinquantenario con un grande evento a Firenze nel 2022 per cui auspichiamo la collaborazione dell'ICROM. I 60 anni di relazioni tra Italia e ICROM costituiscono anch'essi un patrimonio da valorizzare con nuove iniziative nel corso del 2021 in cui ci auguriamo di poter rilanciare il settore della cultura così pesantemente colpito dalla pandemia. Negli ultimi decenni l'ICROM ha lavorato in maniera incomiabile a tutela del patrimonio culturale specie nelle aree di crisi umanitarie belliche e ambientali. I risultati di questo straordinario sforzo hanno confermato come la tutela dei beni culturali possa trasformare le ferite di oggi in opportunità da cui riprogettare il domani. L'Italia sa di poter contare su istituzioni internazionali come l'ICROM per le attività e le sfide del futuro. Da parte nostra rinnoviamo all'ICROM il sostegno del paese che da 60 anni la ospita con orgoglio e la volontà di lavorare ancora insieme per raggiungere nuovi traguardi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.